Rieccoci qui, signori, pronti a tornare a parlare di Grande Fratello VIP, la nuova edizione, quindi edizione numero 8, che sappiamo che ci sarà. Non sarà poi così tanto lontano, signori, sempre settembre, più o meno, lì ci sarà il grande start. Ma siamo entrati intanto noi, per fortuna di cose, ce lo siamo anche meritato, nella stagione estiva, dove si sa, è periodo di vacanza generale. Chi prima, chi dopo, ma alla fine un po' tutti. Ebbene, Alfonso Signorini nel frattempo è subito al lavoro per poter scegliere chi saranno gli opinionisti della prossima edizione del reality show, che vedremo senz'altro a settembre. Ed ecco, infatti, arrivare i primi problemi per il conduttore. Certo, non ci saremmo aspettare che sarebbe stato tutto così easy. E allora, Mediaset potrebbe aver posto il veto ad un nome scelto del padrone di casa, quindi potrebbe mettere in qualche modo il bastone fra le ruote ad Alfonso Signorini, che invece vuole fare una scelta così facile. Al GFVPotto Alfonso Signorini non dovrebbe più contare sull'apporto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli, quindi la squadra di opinionisti è da rifare interamente. A breve dovrebbe comunque esserci la decisione definitiva del presentatore, il quale però dovrebbe cambiare direzione per evitare situazioni poco piacevoli. Ma vediamo chi sarebbe colui che non sarebbe apprezzato dai vertici del Biscione, come riportato dal sito TVblog. Dunque, per il GFVPotto Alfonso Signorini è costretto ad effettuare dei cambiamenti sostanziali per necessità, dato che gli opinionisti della passata edizione non ci saranno, salvo improbabili dietro front. Ed è uscito un nome importante negli ultimi giorni, che sarebbe immediatamente stato stoppato da Mediaset. Non sappiamo precisamente le motivazioni, ma al conduttore sarebbe stato richiesto di virare su altri profili. Secondo TVblog, Mediaset avrebbe molti dubbi sul nome di Emanuele Filiberto, che dopo l'esperienza ad amici di Maria De Filippi in qualità di giudice del serale sembrava poter diventare opinionista del reality show di Canale 5. E inoltre il sito in questione ha anche aggiunto, insieme alla sua ci sono in piedi anche altre illustri candidature, che saranno vagliate attentamente nei prossimi giorni. Ma non sono ancora stati fatti altri nomi. Quest'anno Emanuele Filiberto è stato impegnato anche nel mondo del calcio, infatti è diventato il presidente del Real Agro Aversa, mentre l'anno prima aveva comprato il Savoia insieme ad altri suoi soci. Ora potrebbe immergersi nuovamente in TV, Mediaset permettendo. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.